Passare l'aspirapolvere da soli è un ricordo del passato. Oggi basta un rapido comando perché il robo aspirapolvere pulisca tutti i pavimenti in modo completamente autonomo. Neato Botwack D7 Connected può essere controllato anche tramite Apple Watch, Amazon Alexa o Google Assistant. Il Botwack D7 si integra anche nella Smart Home tramite il servizio di connessione IFTTT e si sincronizza con sistemi come Philips Waynest. Non c'è da stupirsi che riceva spesso ottime recensioni. Abbiamo dato un'occhiata più da vicino al robo aspirapolvere Neato Botwack D7 Connected e lo abbiamo presentato in un test comparativo. Semplice, ma migliore, il Neato Botwack pulisce solo dove dovrebbe Neato Robotics. Botwack D7 Connected è il modello premium della serie di robo aspirapolvere Neato installazione e messe in funzione. Botwack D7 Connected cosa è compatibile con Neato Botwack D7 Connected? Vantaggi del robot aspirapolvere Botwack D7 Connected Svantaggi del robot aspirapolvere Botwack D7 Connected Panoramica del test del Neato Botwack D7 Connected Recensioni a confronto Conclusione, Neato Botwack D7 Connected è buono, ma purtroppo non economico. Botwack D7 Connected Dettagli tecnici prezzi e disponibilità del Botwack D7 Connected alternativa al Botwack D7 Connected Xiaomi Roborock S50 Robo aspirapolvere Maggiori informazioni sui robo aspirapolvere Botwack D7 Connected è il modello premium della serie di robo aspirapolvere Neato. I robo aspirapolvere Neato della serie Botwack Connected costano tra i 500 e i 900 euro, a seconda della fornitura, e hanno già ottenuto punteggi particolarmente buoni in molti test nelle categorie di prestazioni, usabilità e integrazione con la casa intelligente. Neato Botwack D7 Connected Robo aspirapolvere premium con stazione di ricarica, Wi-Fi e app, compatibile con Alexa, rimuove polvere, allergeni e peli di cane disponibile a partire da 549,90 euro al negozio a partire da 20,11. 2023 Nei modelli Neato più economici e meno recenti, l'aspirapolvere Robo esplorava inizialmente la planimetria della casa, creava una mappa e poi si orientava sulla pianta autocreata. È stato necessario utilizzare dei tappi di materiale per assicurarsi che una stanza o una zona della casa venissero tralasciate. Con la nuova tecnologia Neato Floor Planner Advanced Mapping e Amp Cleaning, tutto questo appartiene al passato. Come ci si aspetterebbe da un robo aspirapolvere utile, è possibile utilizzare l'app Neato per definire le zone non consentite per determinate stanze e aree della casa. Neato Botwack D7 Connected utilizza quindi la modalità Floor Planner per riconoscere, ad esempio, i blocchi di costruzioni Lego Day, bambini o le ciotole per il cibo degli animali domestici, e quindi si muove intorno ad essi. Il piano di pulizia documenta anche i punti in cui l'aspirazione è già stata effettuata e fornisce messaggi di stato sui problemi e gli ostacoli che impediscono una pulizia completa. Installazione e messa in funzione Botwack D7 Connected Inserire saldamente il cavo di alimentazione nella stazione di ricarica e collegarla a una presa di corrente. La stazione di ricarica deve trovarsi ad almeno un metro di distanza dalla parete più vicina su tre lati, in modo che il robo aspirapolvere possa manovrare facilmente. Premere il lato rotondo del robo aspirapolvere contro i contatti metallici della stazione di ricarica fino a farli aderire completamente. Quindi caricare completamente il robo aspirapolvere. Scaricare l'app Neato, Android iOS, sul proprio smartphone o tablet e creare un account. Fare quindi clic sul link contenuto nell'email di conferma. L'app Neato vi guiderà automaticamente attraverso il resto del processo di installazione. Per ulteriori informazioni, consultare la guida all'installazione di Neato del produttore. Cosa è compatibile con Neato Botwack D7 Connected? Il nome non sarebbe il programma se Neato Botwack D7 Connected non fosse anche un maestro della comunicazione. Ben 500 app, servizi e dispositivi con Apple TFTTT sono compatibili con il robo aspirapolvere. Inviare un messaggio all'aspirapolvere tramite Facebook è normal per chi possiede un Neato Botwack D7. Chiedere verbalmente al robo aspirapolvere di pulire? Questo è possibile anche tramite assistenti vocali come Alexa. Fare clic qui per la Neato Alexa Skill. Attraverso un piccolo passo intermedio, il servizio di connessione e IFTTT, la rete sociale di Neato Botwack D7 Connected può essere ampliata per includere Twitter, Dropbox, Google, Slack, Fitbit, Nest e Philips Hue. Questo modello è uno dei pochi robo aspirapolvere compatibili con Apple Watch. Neato Robotics, Neato Botwack D7 Connected è disponibile su Amazon al prezzo di 549,90€, al 20 novembre 2023. Vantaggi del robo aspirapolvere Botwack D7 Connected. Adatto anche a famiglie con animali domestici e soggetti allergici possibilità di controllo vocale buone prestazioni di pulizia connessione. IFTTT svantaggi del robo aspirapolvere Botwack D7 Connected. Prezzo elevato Neato Botwack D7 Connected è buono, ma costoso. Neato Robotics, Neato Botwack D7 Connected è disponibile su Amazon al prezzo di 549,90€, al 20 novembre 2023. Panoramica del test del Neato Botwack D7 Connected. Recensioni a confronto. Come modello di alta qualità, Neato Botwack D7 Connected è riuscito a convincere molti utenti esigenti ed è raccomandato da diversi esperti. Nel test di Stern D, Neato Botwack D7 Connected è considerato il punto di riferimento per gli aspirapolvere robot. Dopo il test di blog MiRobotCenter.com, i tester hanno riassunto che il Neato Botwack D7 non lascia nulla a desiderare. La rimozione affidabile dei peli lunghi, di cane, è stato un altro aspetto positivo del test. È stato criticato il fatto che le soglie delle porte alte 3 cm siano un ostacolo insormontabile. Tuttavia, la maggior parte degli altri robo aspirapolvere non è in grado di affrontare questo problema. Persino il vincitore del premio Stiftung Wernstest, Forver Kobold VR200, è riuscito a superare un massimo di 2 cm con i suoi piedini. I clienti hanno valutato Botwack D7 Connected su Amazon con 4,0 stelle su 5,5 fratto 2018. Gli utenti hanno assegnato al robo aspirapolvere 4,5 stelle su 5 su MediaMarkt D, 05 2018. Questo aspirapolvere robot rimuove in modo affidabile anche i peli di animali domestici. Neato Robotics, Neato Botwack D7 Connected. È disponibile su Amazon al prezzo di 549,90€, al 20 novembre 2023. Conclusione, Neato Botwack D7 Connected è buono, ma purtroppo non economico. Non si può sbagliare con il robo aspirapolvere Neato Botwack D7 Connected. Funziona in modo affidabile e pulisce in modo efficiente. Anche il controllo vocale è estremamente pratico e rappresenta una buona aggiunta all'app Neato. Solo il prezzo non ci ha soddisfatto del tutto, anche per le buone prestazioni e le numerose funzioni extra. Circa 900€ sono relativamente alti. Neato è al passo con i tempi. Botwack D7 è compatibile con Alexa. Neato Robotics, Neato Botwack D7 Connected è disponibile su Amazon. Al prezzo di 549,90€, al 20 novembre 2023. Botwack D7 Connected. Dettagli tecnici. Dimensioni. 32x34x10 cm peso. 3,5 kg filtro. Ultra Performance Filter volume del contenitore della polvere. 0,7 litri illuminazione. Due punti LED design, forma di batteria, ioni di litio per tutti i tipi di pavimento, moquette, legno, piastrelle. Laminato la consegna comprende. Due punti Robo aspirapolvere compatibile con WLAN a 2,4GHZ più 5GHZ, stazione di ricarica, cavo di alimentazione, spazzola combinata a spirale, filtro ultrapotente, spazzola laterale, segnalatore di ostacoli, 2M, spazzola e attrezzo per la pulizia del filtro prezzi e disponibilità del Botwack D7 Connected. Neato Botwack D7 Connected Robo aspirapolvere premium con stazione di ricarica, Wi-Fi e app, compatibile con Alexa, rimuove polvere, allergeni e peli di cane disponibile a partire da, 549 euro e 90 centesimi al negozio a partire da, 20,11. 2023 il Robo aspirapolvere Neato Botwack D7 Connected è disponibile a un prezzo di listino di 899 euro. Alternativa al Botwack D7 Connected, Xiaomi Robo Rock S50 Robo aspirapolvere. Se non volete spendere 900 euro per un Robo aspirapolvere, potete ottenere buone prestazioni a un prezzo molto più basso. Un'alternativa con un'impressionante potenza di aspirazione, controllo tramite app e persino una funzione di pulizia è, ad esempio, lo Xiaomi Robo Rock S50, che abbiamo già testato a fondo e trovato valido. In termini di dimensioni, peso e classe di efficienza energetica, corrisponde al modello Neato, decisamente più costoso. Il seguente confronto diretto mostra le differenze tra i due dispositivi. Botwack D7 Connected Xiaomi Robo Rock S50 dimensioni 32X 34x10 cm 35,3x35x9,7 cm peso 3,5 kg 3,5 kg batteria ricaricabile batteria agli ioni di litio batteria agli ioni di litio volume del contenitore della polvere 700 ml 480 ml colore argento, nero, colore bianco classe di efficienza energetica UEA più a più funzione di pulizia Noia compatibile con Alexa Google Home Iano connessione IFTTT Iano volume del suono 69 dB 66, 75 dB a seconda della modalità di pulizia, il prezzo 899 euro, RRP, a seconda del fornitore 370 euro 500 conclusione, il robo aspirapolvere Botwack D7 Connected è una buona opzione per i proprietari di animali domestici, le famiglie e gli amanti del controllo vocale Grazie all'ampio contenitore della polvere, è in grado di gestire anche i peli di cane e le briciole Anche il robo aspirapolvere Xiaomi Robo Rock S50, dal prezzo ragionevole, ci ha impressionato durante il test, ma il suo volume del contenitore è sufficiente solo per 2-3 persone e può raggiungere rapidamente i suoi limiti con cani o gatti Anche la funzione di pulizia non è ancora completamente sviluppata Tuttavia, l'aspirapolvere Robo Xiaomi Robo Rock S50 è il nostro vincitore in termini di prezzo e prestazioni